Musica Morto il serpente che si era introdotto nella scuola di casa del Duca Allarme rientrato, comunica il sindaco di Portoferrario Ferrari Il serpente è stato trovato questa mattina nel cortile Lunedì riprendono le lezioni in modo regolare Coltivava marijuana vicino casa, denunciato un 19enne Sorpreso a Marina di Campo, mentre innaffiava le piantine Altre già essiccate sono state rinvenute nell'abitazione Il giovane dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente La regione riprende i soldi del canile togliendo gli affitti Firenze assegna 43 mila euro a Portoferraio Che ne aveva chiesti 296 mila E poi ne trattiene 39 mila per recuperare il contributo concesso per il canile Bertucci, così avete colpito 112 famiglie E stanzia una piccola somma Gli isolani Riolo e Floris al comando del rally Elba storico Dopo la seconda giornata di gara l'Audi 4 che porta i colori di Teleelba e di Tienius A 11 secondi e 6 di vantaggio Sulla lancia 0,37 di Brazzoli E 18,2 sulla sorprendente Renault 5 Turbo del francese Vallicioni Quinta la escort di Calzolari e dell'Elbano Scalabrini Benvenuti cari telespettatori, buonasera Ecco le notizie del telegiornale di Teleelba In apertura una notizia di cronaca Che ha tenuto a un po' con il fiato sospeso Tutti i genitori e gli alunni, gli insegnanti E tutti coloro che orbrano intorno alla scuola di casa del Duca Ieri si è parlato del ritrovamento di un serpente Che ha di fatto sospeso un'assemblea che si teneva a scuola Oggi il sindaco di Portoferraio annuncia che il serpente Una biscia, non una vipera come si era pensato in un primo momento E' stato ritrovato morto nel cortile della scuola Oggi la scuola era chiusa Da lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente Ecco il servizio Allarme rientrato alla scuola di casa del Duca Questa mattina il serpente avvistato nella giornata di mercoledì dentro la scuola E' stato trovato morto nel cortile Quella che aveva creato tanto scompiglio E' risultata poi essere una biscia Che non si sa per quali cause Presentava una lesione a metà del corpo Probabilmente quella che l'ha portata alla morte Chiamato dal personale della scuola E' arrivato sul posto intorno alle 9 di questa mattina Il sindaco di Portoferraio Mario Ferrari Proprio Ferrari aveva disposto la chiusura della scuola Per la giornata di oggi Sperando che da qui a lunedì La ricerca del rettile portasse a dei risultati E così è stato Il serpente era morto da poco e non ci dovrebbero essere dubbi Sul fatto che sia proprio quello che è stato visto Mercoledì pomeriggio Ci ha detto il sindaco Beh diciamo che l'allarme serpente è ultimata Abbiamo avuto la fortuna di recuperare L'esemplare che non è una vipera Ma è un biaccone Un biaccone, un verdone Come di solito Noi dalle nostre parti sono pisano Si dice un verdone Ecco di solito Sono questi E ora qui il personale presente Vi dirà Vi illustrerò un attimino Lo stato d'animo Dei ragazzi Del personale insegnante Di ieri Ieri è stata una giornata un po' particolare Abbiamo portato tutti al campo sportivo Qui al campo da rugby Un po' particolare per i bimbi Un po' di tensione per i genitori Anche per noi Ci ha levato un po' di tranquillità Abbiamo smosso tutta la scuola Insieme ai vigili del fuoco Ce l'abbiamo fatta Siamo contenti così Abbiamo riacchissato la nostra tranquillità E si ripartono tutti insieme Ripartiamo tranquilli Senza il dubbio Che magari ci sia niente Nella scuola Un allarme rientrato Ancora cronaca È stato sorpreso Mentre innaffiava vicino casa Una pianta di marijuana Si tratta di un 19enne Il fatto è successo a campo nell'Elba Il giovane è stato denunciato Una piccola piantagione Di marijuana ben curata Poche decine di metri da casa Uno stecco essiccato Della stessa sostanza Ed un grinder Utilizzato per la tritatura Dello stupefacente Questo è quanto è stato Sequestrato dai carabinieri Della stazione di campo nell'Elba Ad un 19enne campese Sorpreso dai militari Proprio mentre innaffiava le piante Per farle crescere In un vicino terreno Di sua proprietà Opportunatamente recintato Le due piante di marijuana Erano già alte Circa un metro ciascuna Ed in parte fiorite Gli uomini dell'arma Poi hanno proceduto Anche alla perquisizione Dell'abitazione del ragazzo Trovando anche lo stecco essiccato Il grinder A dimostrazione Che non si è trattato Di un episodio estemporaneo Bensì di una già collaudata Attività messa in atto Dal giovane Il 19enne È stato deferito All'autorità giudiziaria Livornese Qui dovrà rispondere Del reato Di coltivazione Di sostanza stupefacente È deceduto Nella notte di giovedì 18 settembre All'ospedale di Pisa Walter Nardini Un personaggio Molto conosciuto A Marina di Campo Ma in tutta l'isola d'Elba Era originario Di pesce Anoto manager Alberghiero Attualmente ricopriva Il ruolo Di direttore Di tre alberghi L'hotel Monte Cristo L'hotel Riva E Villa Cristina Si era spesso impegnato Nello sport Ed ultimamente Anche in politica Tanto da essere Eletto consigliere comunale Nella lista Nuovo progetto Per campo Nell'ultima Tornata Amministrativa Quella del 2014 Walter Nardini Aveva 48 anni E si è spento Dopo una lunga Quanto implacabile Malattia Alla moglie Alle figlie Le più sentite Connuglianze Della redazione Di Tele Elba E di Tireno Elba News Cambiamo argomento C'è un problema A Portoferraio Lo rende noto Ad Alberto Bertucci Insignere comunale A Portoferraio Assessore comunale A Portoferraio Questi sono i fatti La regione Ha segnato 43 mila euro Al comune Di Portoferraio Che però Ne aveva chiesti 296 mila E ne ha trattenuti 39 mila Dei 43 mila Assegnati Come compensazione Per recuperare Il contributo Che era stato Concesso al comune Per il canile Comprensoriale L'assessore Bertucci Ha protestato E ha scritto Una nota Alla regione Dicendo Così avete colpito 112 famiglie Non ambienti E in modo simbolico Ha stanziato Una piccola somma Vediamo il servizio Ogni anno La regione toscana Come previsto Dalla legge regionale Mette a disposizione Delle amministrazioni Comunali Delle somme Alle quali si accede Con la partecipazione Ad un apposito bando Quale contributo Per il pagamento Del canone Di locazione Destinato a fasce Di popolazioni Più deboli Per l'anno 2013 La regione Su richiesta Di un fabbisogno Di circa 296 mila euro Ha assegnato Al comune di Portoferraio Una somma Di 43 mila 334 euro Trattenendosi però Al momento Della liquidazione L'importo Di 39 mila 518 euro Attivando quindi Una procedura Di compensazione Al fine di recuperare Il contributo A sua volta Concesso La comunità montana Per la realizzazione Del progetto Di costruzione Del canile Comprensoriale L'assessore Del comune Di Portoferraio Ad Alberto Bertucci Una volta venuto A conoscenza Di quanto avvenuto Ha inviato Ha inviato una nota Di protesta La regione toscana Nella quale Si evidenzia Come la decisione Sia almeno Discutibile Aggiungendo Che il comune Considera illegittima La decisione Di compensare Le somme Per la mancata Realizzazione Del canile Comprensoriale E che questa Decisione Ha colpito Decine E decine Di famiglie Esattamente 112 Privandole Del necessario Concorso Regionale Al pagamento Degli affitti Per i meno Ambienti Bertucci Ha anche fatto Sapere Che l'amministrazione Comunale Ha ritenuto Di garantire Nell'ambito Delle risorse Disponibili A bilancio Un contributo Minimo Da distribuire Per l'anno 2013 Infine Invita L'amministrazione Regionale A rivalutare Il problema Restituendo Al comune E di conseguenza Alle famiglie Colpite I fondi Necessari A titolo Di contributo Sociale Per il pagamento Degli affitti Sia per l'anno 2013 Che per tutti Gli anni Successivi Nella misura Dovuta Ci sarà Un'assemblea Pubblica Giovedì 25 settembre Per parlare Dei problemi Della scuola Il comitato Dei genitori Dell'Isis Chiedono A gran voce Ai cittadini Ilbani Di protestare Per come Sono messe Le scuole All'isola Delma I famosi edifici Dell'ex finanza Teseo Tesei Sono finalmente Proprietà Della provincia Di Livorno È avvenuta La permuta Degli immobili Col demanio Possiamo avere La documentazione Per poter scegliere Definitivamente Un plesso scolastico Come si deve Per le scuole Di secondo grado Queste le domande Che un rappresentante Del comitato Dei genitori Isis Foresi Ha rivolto Pubblicamente All'assessore regionale All'istruzione Emanuele Bobbio Durante la sua visita Elbana L'assessore Ha promesso Che si informerà E risponderà Tra una settimana Aspettiamo i documenti Ufficiali Dicono i genitori E se non ci risponderà Rivolgeremo la richiesta Alla presidente Della conferenza Zonale Isola d'Elba Adonella Anselmi Il comitato Genitori Isis Foresi Richiama quindi L'attenzione Sull'urgenza Di informazioni Sulla trasparenza Degli appalti Sul controllo E la tempistica Dei lavori Che riguardano Gli edifici scolastici Delle scuole superiori Bisogna denunciare Dicono i genitori Che il mancato Intervento Da parte della provincia All'istituto Brignetti Ha poi provocato Il crollo del soffitto E l'evacuazione Della segreteria Dal piano terra Tutto ciò Comporta un aumento Dell'appalto Da 200.000 euro A circa 350.000 Altro intervento Inutile della provincia Riguarda l'immobile L'ex liceo scientifico Adiacente Alla scuola Cerboni Sono stati spesi 100.000 euro Dicono per le pareti Perimetrali E ci piove dentro Ed è a oggi All'abbandono più totale Il comitato Richiama raccolta I cittadini ilbani Perché protestino Per il degrado Che colpisce Le scuole superiori Invitiamo I comitati di genitori Docenti Studenti Assessori all'istruzione Sindaci dell'isola d'Elba Terminano A partecipare All'assemblea pubblica Della scuola Prevista per giovedì 25 settembre Nella sala della provincia Alle 17.30 E c'è una nuova legge regionale Che permette nuove azioni Contro l'erosione costiera Lo ha comunicato In una nota stampa L'assessore Anarita Bramerini Definire il contesto Di programmazione regionale Degli interventi Necessari a raggiungere E mantenere L'equilibrio dinamico costiero Con particolare attenzione All'indicazione Di uno strumento snello E modificabile periodicamente Che comprende anche La programmazione Delle attività di gestione Dei sedimenti Finalizzata al ripascimento Delle zone in erosione Questo uno degli obiettivi Contenuti nella proposta Di legge illustrata In commissione ambiente Della regione toscana Preseduta da Gianfranco Venturi Del PD Dall'assessore regionale Anarita Bramerini E finalizzata a disciplinare Le funzioni in materia Di difesa della costa E degli abitati costieri Un testo che rinvia Al piano ambientale Energetico regionale La definizione Delle strategie di intervento Per il recupero E riequilibrio Del litorale E prevede un documento Annuale approvato Dalla giunta Con propria deliberazione Per la programmazione Degli interventi Secondo le risorse In bilancio Il attesto contiene Anche una sorta di Atlante Che è la ricostruzione Puntuale delle nostre coste Con i relativi punti Di criticità Il documento Che sarà illustrato Ai commissari Nel corso di una seduta Specifica È tanto più importante Perché non veniva redatto Dal 1989 Ha rilevato la Bramerini Il provvedimento Intende potenziare Le attività di monitoraggio Riservate alla regione È prevista L'istituzione Di un tavolo istituzionale Denominato Conferenza Permanente Per la tutela della costa Supportato da un comitato tecnico Il portavoce Dell'opposizione Stefania Cuscagni Ha dato atto Dello sforzo Compiuto dall'esecutivo Nel mettere ordine Alle proprie competenze Così come ha riconosciuto L'importanza Del potenziamento Dell'attività di monitoraggio Richiamata nella proposta Di legge Da Paolo Marcheschi Di Fratelli d'Italia Invece qualche perplessità Su come questo provvedimento Si raccordi Con piani Già approvati Per il rally Per il rally c'è un Audi 4 Che porta i colori di Teleelba Di Tienius In testa All'rally dell'Isola d'Elba Dopo la seconda tappa L'equipaggio isolano Composto dal driver Siciliano Totò Riolo E dal copilota Elbano Alessandro Floris Che corrono Sull'Audi 4 Della sfideria Belletti Con i colori di Teleelba E Tienius E al comando Della 26esima edizione Del rally Elba Storico Dopo la seconda giornata di gara Dopo un terzo posto Nella prima prova speciale Della Falconeia Un solo secondo Dai primi due Della starting list Montini Con la Porsche numero 1 E Lucky Con la 037 numero 2 Riolo e Floris Hanno vinto ieri sera La seconda prova Quella cittadina di Capoliveri Concludendo la prima giornata di gara In testa alla classifica La situazione Si è ulteriormente consolidata Questa mattina Quando l'equipaggio numero 9 Ha vinto anche la terza prova speciale Quella dei Due Mari Ristaccando l'equipaggio Secondo in classifica Quello di Brazzoli Con la lancia 037 numero 5 Di 18 secondi e 2 Nelle due successive prove speciali Quella di Montegiove Bagnaia E quella di Lavacchio Lapila Sono cominciati alcuni inconvenienti All'idroguida dell'Audi 4 Di Riolo e Floris Che hanno perso secondi preziosi Scivolando in seconda posizione Dietro la 037 di Brazzoli Gli isolani si sono rifatti Nell'ultima prova speciale di giornata Al secondo passaggio Sulla Montegiove Bagnaia Vincendola e riportandosi al comando Con 11 secondi e 6 di vantaggio Sulla lancia 037 di Brazzoli E 18 e 2 Sulla sorprendente Renault 5 Turbo Del francese Valliccioni Quinto assoluto Con la spettacolare Ford Escort Numero 24 L'equipaggio composto Dal San Marinese Calzolari E dal navigatore elbano Simone Scalabrini Staccati di 47 secondi e 6 Fra gli elbani Grande prova di Galullo Pieri Con la Fiat 128 Rally Numero 98 Che si sono messi dietro Un numero infinito Di auto molto più potenti Piazzandosi per il momento In 23esima posizione Di classifica generale Domani sabato 20 settembre È il gran finale Con 5 prove speciali E l'arrivo a Capoliveri Previsto per le 15 e 40 Ci sono gli scoglionati viola Al termine del nostro telegiornale In questa puntata Oltre ad analizzare L'incontro della Fiorentina I nostri due opinionisti Parleranno del trofeo Nato Scoglio E del mago Luigi Amici di Tele Elba Bene trovati Alla terza puntata L'appuntamento con gli scoglionati viola Da Fausto Da Luigi E da Elbano Andiamo subito al Dunque Luigi Io direi una piccola premessa Che riguarda il nostro club Il nostro club Ha raggiunto È molto conosciuto È molto conosciuto Infatti quando siamo andati a Firenze Ci hanno chiesto anche l'appuntamento Su un led di radio Per parlare E la nostra notorietà Dipende appunto Dal nostro club Cioè più siamo E più il club Viene preso in considerazione Quindi questo è un invito A rinnovare l'abbonamento Oppure a unirsi con noi Con gli scoglionati viola Perché più siamo E meglio è Questa era una piccola precisazione Prima di iniziare Un piccolo appunto sul passato E poi andiamo a guardare Più che altro al futuro Quindi Fiorentina-Sassuolo Il passato Siamo stati a Firenze E abbiamo visto Fiorentina-Genoa Dalla curva Quindi Luigi Un piccolo Flash Flash sulla partita Allora innanzitutto Chiederei alla regia Di mandare dietro le immagini Dello grande spettalo La curva Fiesole Ha fatto domenica Prima della partita Si distingue sempre Bella coreografia La partita Forse saranno stati I 40 gradi Che avevamo anche noi Nelle gradinate Forse Sarà stata la seconda Di campionato Io non l'ho vista Non ho visto Una gran bella partita Non ho visto un Genoa Perché il Genoa Ha fatto delle barricate Ha avuto solo l'occasione A 10 minuti dalla fine La Fiorentina Ci ha provato Però era abbastanza confusa Il gol di Gomez Mancato È stato clamoroso Però a di là Degli errori Che ci possono essere stati Durante l'incontro Devo dire Che non è per ora La Fiorentina Dell'anno scorso Però non farei Tutti questi drammi Come sento Da varie parti Allora quel tizio Manca Quell'altro manca Quello non è buono E così via Abbiamo una gran bella squadra Che si deve ancora amalgamare Specialmente con i nuovi E quindi Aspettiamo tranquillamente Perfettamente d'accordo E visto che parliamo Della partita Fiorentina Genoa Io andrei alle votazioni Che sono state fatte Sul nostro sito Assolutamente sì E ricordo naturalmente Di votare Sempre sul nostro sito ScoglionatiViola.it Per quanto riguarda I nostri trofei Quest'anno Sapete bene Che abbiamo anche La votazione Per l'arbitro In questo caso Il signor Orzato Quello che si classificherà Ultimo Verrà presso a bastonate Sì certo Verrà presso a bastonate Sì abbiamo il nostro premio Il bastone d'oro Però a chi orzato Le votazioni L'hanno visto insomma Buone Perché ha ottenuto Il 42% Con voto 6 E il 32% Con voto 7 Quindi diciamo Che è una votazione Fra 6 e il 7 E noi Però aggiudichiamo Diciamo Fra virgolette I 6 punti Per come veniamo Trattati dagli arbitri Sì per ora Siamo all'inizio Siamo all'inizio Siamo all'inizio Per quanto riguarda Il trofeo Nato Scoglio Questa settimana Ha vinto Quadrado Col 27% Seconda posizione Rodriguez Col 19 Aquilani Con i 14 A pari merito E un Babacar E poi Alonso L'11% I punti Sono 7 per Quadrado 4 a Rodriguez E 1 a Aquilani E Babacar E la classifica In questo momento Dopo due partite Vede Neto e Quadrado A 7 punti Alonso a 4 Insieme a Rodriguez Babacar 2 E Aquilani 1 Io faccio un piccolo appuntino Alonso Io due volte che Lo dico sinceramente Mi fa piacere Vederlo giocare bene Questa volta L'ho anche votato Perché dall'Alonso Dell'anno scorso Era irriconoscibile Non sapevamo È un altro giocatore È un altro giocatore Quindi benvengano Anche i prestiti Se poi ritornano In queste condizioni Certamente Hai visto qualche giocatore Un pochino sotto Il suo livello standard O no? Sì Uno in particolare Borca Valero Borca Valero È per ora Irriconoscibile Non so se è la posizione Sta cercando di provare Qualche cosa A Montella Però effettivamente Qualcuno l'ha giudicato Anche il migliore Ci mancherebbe Il calcio è bello per questo Però Borca Valero L'ho visto proprio Non in condizione Allora Rubrica Ve l'avevo detto Allora Guardate Il nostro mago Luigi Trasformati in mago Sì Ora faccio zoom Allora Il nostro mago Luigi Quando si parla di altre cose Eccetera eccetera Ci indovina sempre Dovevamo fare Non mi ricordo cosa Una festa Roba del genere E lui mi ha detto Comunica Circa 20 persone Io ho detto Ma scusa Se poi siamo 10 Che figura si fa 19 persone Signori Quindi il mago Ci azzecca sempre Qui Dobbiamo un po' Rivedere le cose Domenica scorsa Ha pronosticato Ha fatto due pronostici E la sbagliate Tutte e due Uno Ci sono andato vicino Perché visto il pareggio Fra Mila e Parma Lì è stato proprio Lo show del gol Quindi Poteva starci Anche all'ultimo Allora Quindi te ne do Uno un pochino più semplice E uno un pochino più difficile Allora Quella più semplice Vogliamo il risultato finale Di Roma-Cagliari Mentre l'altra Vogliamo il risultato esatto Di Udinese-Napoli A te Mario Allora Allora Roma-Cagliari Vince la Roma E l'altro era Udinese-Napoli Risultato finale Risultato? 1 a 1 Benissimo Con questo direi È tutto Mi ricordo di votare Per i nostri trofei Nato Scoglio Sul nostro sito www.scoglielativiola.it E sempre Forza Viola Con questa rubrica Dedicata al Tifo Viola Chiudiamo l'edizione Del telegiornale di quest'oggi Grazie per averci seguito Vi diamo appuntamento Alle prossime edizioni Vi lasciamo Alla programmazione Della rete Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sorrisi